Bene, buongiorno a tutti ragazzi, io sono Farotube e oggi siamo qua con un nuovo video. Nel video di oggi continuiamo con la sciaga del blocco motore di Paolo e in particolar modo oggi andremo a installare tutto ciò che riguarda l'alimentazione. Quindi pacco lamellare, collettore, carburatore e filtro. Ma oltre ad installare andremo a vedere anche che cosa siamo andati ad eseguire perché chiaramente ci sono delle lavorazioni da fare per ottenere il massimo dal tutto. Prima di partire con il video però vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video ma soprattutto di lasciare un mi piace al video per supportare me e i contenuti che cerco di portarvi. Detto questo ragazzi iniziamo. Bene allora oggi come indicato nell'entro del video andiamo ad installare l'alimentazione completa sul motore di Paolo. Dopodiché chiaramente avremo concluso con il tutto. Purtroppo mi dispiace ancora per la gaff precedente riguardante il cilindro quindi l'installazione del cilindro ma purtroppo la videocamera mi ha lasciato a piedi. Detto ciò oggi vediamo di recuperare invece con qualche cosa di nuovo. Allora l'alimentazione intanto in questione per questo tipo di blocco motore non è il classico 25 ma abbiamo deciso di installare un carburatore da 28. Potevamo andare a installare il VHCT28 che è chiaramente un carburatore di generazione successiva con valvola piatta ma per una questione di praticità di carburazione soprattutto perché su questi motori non è che si senta particolarmente la differenza tra un carburatore molto spinto quindi di nuova generazione rispetto a quelli vecchi. Abbiamo deciso di optare per il classico e buono PHBH28 di facile carburazione d'accordo e oltretutto che una volta carburato non si scarbura in continuazione in base alla temperatura. Quindi il carburatore che andremo a installare sarà il PHBH28 come già detto milioni di volte con un filtro che in questo caso non è il Malossi. Abbiamo deciso di optare per un filtro della RAM Air se così si chiama o RAM Air a seconda di come lo andiamo a leggere e questa tipologia di filtri è stata acquistata su Amazon principalmente perché abbiamo cambiato filtro. Abbiamo cambiato filtro semplicemente perché Paolo non voleva un qualcosa di troppo vistoso. I filtri Malossi sono rossi sono davvero molto molto vistosi seppur belli ma c'è un detto che dice non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. A lui piaceva questo e quindi abbiamo optato per questo tipo di filtro. Ci tengo già a prestigiare però che è un filtro molto meno poroso rispetto a quello Malossi quindi a fatica si vede la luce passare quindi sicuramente aspirerà meno aria per forza di cose sarà un pochettino più uso rispetto alla spugna del Malossi. Parlato ora del carburatore andiamo a parlare invece della parte fondamentale cioè del pacco lamellare e del collettore. Per andare a montare il 28 dobbiamo per forza di cose andare a cambiare il pacco lamellare altrimenti il pacco lamellare di serie originale o simile originale come il WL13 come già spiegato più volte non riesce a compensare l'afflusso di miscela uscente che comunque esce dal carburatore. Per questo motivo quindi siamo andati a fresare i carter come vi ho già fatto vedere nel precedente video e andremo a installare un pacco lamellare WL16 in questo caso. Pacco lamellare di casa Malossi che sono riuscito a recuperare a un prezzo leggermente inferiore rispetto al nuovo ma comunque in ottimo stato e quindi abbiamo deciso di optare per questo pacco. Oltretutto sono già andato a lavorarlo quindi a raccordarlo perfettamente con il collettore ma prima di vedere che cosa ho fatto parliamo del collettore. Il collettore invece ho optato per un collettore 360 in questo caso Polini preso nuovo Polini ci fornisce chiaramente la sua scatola eccolo qua ce l'abbiamo fatta oltre alla scatola abbiamo chiaramente le viti che ho già estratto e la serie insomma di collettori 360 di Polini. Questo collettore è molto simile al Malossi ma ho preferito prendere il Polini per un semplice motivo perché nella parte posteriore dove va a contatto con il pacco lamellare ha un labbro ulteriore di tenuta cosa che il Malossi non ha quindi siccome la cifra è praticamente la stessa ho preferito optare per il 360 Polini. Per tutto il resto invece la differenza non c'è tra Malossi e Polini. Ci tengo anche già a dire le misure come vedete esce con forma ellittica e la misura dell'imbocco è 35x30 quindi in realtà per avere un qualche cosa di preciso e perfetto dovremo andare a montare un carburatore di diametro 30. In questo caso abbiamo un 28 andremo a montare questo. È sempre comunque meglio se non si può avere una coppiata perfetta quindi 30x30 andare a installare sempre un qualche cosa di un po' più piccolo rispetto a qualcosa di un po' più grande. Ok parlato di ciò andiamo a vedere anche la lavorazione che è già stata fatta d'accordo in questo in questo modo e quello che sono andato a fare è andare a raccordare il condotto. Ora non si vedrà ma noi andiamo ad accendere il flash e andremo a vedere qualche cosa. Faro tube chiese la luce e luce fu. Infatti con la luce riusciamo a andare a vedere che siamo perfettamente raccordati. Beh arriviamo adesso alla parte più bella cioè al montaggio. Procediamo quindi ora al montaggio. Prima cosa andiamo chiaramente a pulire i piani ma questa è una cosa che abbiamo già fatto e adesso siccome piaggia non ci dà le guarnizioni andremo a posizionare un po' di pasta sul piano del pacco lamellare per essere sicuri di avere una tenuta perfetta. Andiamo a installare adesso il nostro pacco lamellare. Andiamo a installare il nostro collettore. Andiamo a serrare il tip. Andiamo ora a stringere i viti. Prima di stringere totalmente andiamo a verificare col dito se siamo perfettamente raccordati al pacco lamellare. In alternativa ci andremo a spostare di quello che basta. Ok. Andiamo ad andare a serrare e a stringere dei finti da tutta. A questo punto andiamo a installare il carburatore. Quindi smogliamo la fascettina. Andiamo a posizionare il carburatore con il filtro già installato in precedenza. Ecco. A questo punto andiamo a stringere nuovamente la fascetta. Non tiratela troppo. Quando sentite che va a battuta date un altro mezzo giro e scelte più che operativo. Il carburatore è montato. Abbiamo donato quindi a questo blocco motore un'alimentazione di tutto rispetto. E ora non ci resterà altro da fare che chiaramente la prima accensione del blocco motore. Quindi lo andremo a installare sullo scooter e andremo ad accenderlo. Ovviamente seguirà un'ulteriore puntata relativa alla prima accensione. Ma proprio per non perderla vi ricordo di iscrivervi al canale. Trovate il tasto iscriviti sotto al video. Di attivare la campanellina di fianco al tasto iscriviti perché così YouTube vi notificherà quando uscirà un nuovo video sul mio canale. E oltretutto di lasciare un bel mi piace per supportare il canale e i video che cerco di portarvi. Da fare il tube e dall'alimentazione è tutto. Stay tuned perché arriverà la prima accensione del nostro blocco motore. Un saluto. Alla prossima. Alla prossima.